Questa sera, in prime time su Canale 5, andrà in onda la nona puntata del Grande Fratello Vip 3. Sarà una serata ricca di colpi di scena, in cui non mancheranno eliminazioni e sorprese. Si tornerà a parlare, anche di Francesco Monte e Giulia Salemi che in questi giorni si sono avvicinati ulteriormente dando l'impressione che tra loro possa nascere realmente un qualcosa che va oltre l'amicizia. Il bacio tra Francesco Monte e Giulia Salemi.Questa sera come vi abbiamo anticipato poc'anzi, si parlerà anche del rapporto, che vede legati Giulia Salemi e Francesco Monte. Si parlerà soprattutto del bacio che Francesco avrebbe dato a Giulia per farla tacere. Chiuse virgolette ho dato un bacio a un'amica logorroica solo per farla stare zitta.I due avranno modo di dire la loro, e di chiarire per l'ennesima volta cosa provano realmente l'uno nei confronti dell'altro. I momenti di sconforto per Gianni.Gianne Alexander dopo l'eliminazione di Elia Fongalo si è estraniata dal gruppo, cadendo spesso in momenti di sconforto. Ilari avrà modo di parlare con lei per provare a darle un po' di conforto. Il momento più difficile per Gianni, è stato quello di non poter vedere Elia la scorsa puntata, quando era entrato in casa per avere un confronto con Francesco Monte. Il televoto settimanale.Non si parlerà soltanto di amore questa sera al GFVIP, ma anche di nominei Cine di Eliminazioni. A contendersi il posto nella casa questa settimana vi sono. Walter Nudo, Benedetta Mazza, Fabio Basile e Ivan Cattaneo. Uno dei tre concorrenti nominati dovrà lasciare la casa del grande fratello V questa sera stessa, perdendo la possibilità di conquistare il Montepremi finale. .